...valutata per troppo tempo e oggi è solo... ...e rischia di farne fare i passi... ...anche su questo, ovunque la siderurgia e la conciliazione della produzione dell'acciaio con l'ambiente crea posto di lavoro, in Italia invece, proprio per questo scontro che c'è rischia di diventare tutata sotto i riflettori di questa situazione perché la siderurgia italiana, quello che resta, gli ultimi due impianti a ciclo integrale sono assolutamente fondamentali per l'alimentazione di gran parte delle imprese italiane, appunto, industriali e per questo è importante garantire un'indattazione proprio su questa gravità Grazie Io sono Mario Chini della Commissione Nazionale solo due battute, proprio per integrare, legati più che altro al...